buongiorno e grazie a tutti per vedere ancora queste pillole senza andare dal medico allora innanzitutto voglio ringraziarvi per tutte le condivisioni per tutti i commenti per tutto quello che mi scrivete grazie 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 allora il libro di cui parliamo oggi è l'amore vero di anna cherubini anna è una scrittrice sceneggiatrice autrice di fiction italiane non che la sorella di giovanotti che qui vedete in un suo libro ci sono libri che insegnano ci sono libri che raccontano storie ci sono libri che servono per passare il tempo magari al mare o altrove però ci sono libri che fanno bene all'anima e questo è uno di quelli perché questo libro è uno spaccato di emozioni racconta l'amore vero ma l'amore inteso come quello che non muore mai che non può finire cioè quello per un genitore anna nel 2015 perde suo padre una persona meravigliosa che io ho avuto il piacere di conoscere e da lì parte e ci racconta aneddoti della sua vita e ci racconta di una mamma così forte che ha cresciuto quattro figli in una maniera spettacolare ci racconta di suo fratello che sognava di cantare ci racconta di un altro suo fratello che sognava di volare e questi sogni sono stati realizzati purtroppo anna nel giro di poco tempo perde la madre perde un fratello perde il padre ma non perde il sorriso non perde l'amore vero che ci regala attraverso questo libro in questo in questo romanzo troverete delle dei racconti che potrebbero essere quella di ognuno di noi di persone semplici di persone innamorate della vita e della voglia di fare troverete il sorriso di mario una persona eccezionale una persona dal carattere forse un po burbero ma dolcissimo mi raccomando leggetelo questo libro perché vi trasmetterà una grande emozione a domani ciao ciao